I carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, coordinati dal maresciallo Santino Musto, hanno denunciato a MM, 19 anni del posto, il quale nella notte tra sabato e domenica scorsi si era introdotto in due attività commerciali di corso Matarazzo, portando via oggetti e contanti per un valore complessivo di alcune migliaia di euro. I militari, attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a riconoscere il giovane, sebbene il 19enne avesse cercato di occultare il suo volto con un cappuccio ed una sciarpa per non farsi identificare. I carabinieri, attraverso lo studio di una serie di elementi, sono riusciti a comprendere chi fosse il ladro e lo hanno raggiunto presso la sua abitazione. A seguito di perquisizione domiciliare hanno rinvenuto anche il bottino.